Circa 50 gli interventi in programma per i beni culturali siciliani, utilizzando ben 103 milioni di euro con fondi del PSC Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027, una decisione del Governo regionale su proposta dell'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà. Si prevedono infatti opere di restauro in tutta la Sicilia e il finanziamento di diversi cantieri di scavo archeologici, interventi messi a punto dal Dipartimento dei beni culturali diretto da Calogero Franco Fazio. Diverse le opere che trovano dunque la copertura finanziaria, come la realizzazione di un sistema antintrusione centralizzato per proteggere i musei e i parchi archeologici siciliani, con una spesa di circa 7 milioni di euro, o ancora la messa in sicurezza del sito del Museo delle Solfare di Trebbietta e Larita, fra Sommatino e Riesi, a cura del Parco archeologico di Gela, per un importo di 5 milioni e 300 mila euro, e per più di 17 milioni di euro la riqualificazione e valorizzazione della Real Cittadella di Messina. Grazie a questi interventi, sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samona, si potranno restaurare importanti testimonianze del nostro patrimonio culturale e realizzare quelle opere indispensabili per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei luoghi della cultura della nostra Sicilia. Prendersi cura dei beni culturali, conclude, vuol dire guardare al futuro della nostra terra, perché così si creano le condizioni per uno sviluppo anche economico dei territori, che si basi sull'identità e sulla storia plurimillenaria della Sicilia. Grazie. Grazie.